ciao in questo video vedremo un argomento che sembra quasi banale ma molto pratico semplice ma che si è trascurato visto che da adito a litigi o mai compressioni tra acquirenti e venditore parliamo dei subentri dei contratti delle varie utenze quando si compra e si vende l'abitazione sono stefano boscarato specialista del vendere caso e faccio questo lavoro da oltre trent'anni e le cose che generano contrattempi si risolvono in una sola maniera prevenendo quindi una delle cose che i proprietari mi chiedono ma io sono obbligato a far fare il subentro alle mie utenze al potenziale acquirente la risposta è no non sei obbligato caro proprietario di casa tu puoi chiudere tranquillamente il tuo contratto e l'acquirente lo riaprirà certo che visto che ci sono dei costi di riapertura da zero e anche delle pratiche è una bella cortesia da fare all'acquirente il fatto di fare un subentro ovviamente ci sono delle accortezze perché poi questo non si tramuti un problema non mai comprensione tra venditore e acquirente quindi le accortezze da avere sono che tu gli fai avere le copie delle bollette e ti premuri che la persona stessa comunichi subentro ai vari enti all'acquedotto al gas eccetera 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 ma soprattutto fate una lettura assieme dei contatori delle varie utenze sottoscrivete che il tal giorno la lettura è x y e z in maniera che quando arriverà la bolletta a te di chiusura e lui di apertura tu pagherai solo quello che hai consumato e lui pagherà da lì in poi in questa maniera fai contento un acquirente non ci rimetti nulla tu e tutto fila liscio prevenire ovviamente è meglio di curare quindi segui quello che ti ho detto e questo comporterà sicuramente una vendita tranquilla e senza stress a proposito se il piacere di una consulenza per vendere casa dove cureremo non solo questi particolari molto easy ma che evitano rotture di scatole ma cose bene più importanti che ti consentono di fare una vendita sicura tranquilla di vivere un'esperienza positiva vai su consulenza vendere casa puntiti compila il form con i tre dati che vengono richiesti e vari contattato dal mio agente certificato e ti daremo una consulenza gratuita che ti permette di capire cosa fare per vendere la tua casa alle migliori condizioni di mercato ma soprattutto evitando qualsiasi problema per il tempo e stress buona vendita